Salve ragazzi che amici del web, sono Andrea Bruno e in questo video mi prefiggo di spiegare cosa sia successo in Ucraina e lo faccio essenzialmente rivolgendomi ai sostenitori del fronte Euro Maidan. Questo è molto importante, parlo a te dunque sostenitore di Kiev perché essenzialmente te sei una persona plagiata e io con questo video ti allargo le vedute, ti faccio capire quello che è successo per cui in un certo senso è un video che serve anche a salvare te stesso un video che ti viene incontro e ti fa riflettere. A Kiev abbiamo assistito ad un golpe, un golpe nel quale sono stati utilizzati gente che era incazzata per i fatti suoi, gente che era contro il sistema e gente anche plagiata ad arte in un ventennio con delle cose di propaganda create sistematicamente per creare un fronte di odio contro i russi. Si parla per esempio al Golodomorra andatevi a vedere l'altro mio video sul Golodomorra per riuscire a capire quanto questo elemento sia stato strumentalizzato per andare a plagiare la gente e per creare artificiosamente un odio nei confronti della parte russa della popolazione. È stato dito anche una macchinazione di questo tipo, in Europa chiaramente gli ucraini non li vuole nessuno in Europa, l'Inghilterra ha già detto che nel tal caso dovessero entrare gli ucraini in Europa esce lei, per quello che riguarda Schengen. Durante le Romedan si parlava di Unione Europea, però in maniera sistematica si parlava tecnicamente di circolazione all'interno dell'Unione Europea. La balla era che è vero che vi era in ballo un trattato questa circolazione all'interno dell'Unione Europea. Di fatto era un trattato che riguarda esclusivamente la circolazione delle merci. Perché adesso dopo tutto quello che è successo, guardiamo il sostegno da parte, che ne so, della Merkel, della parte anche delle istituzioni europee verso l'Ucraina, però nessuno apre le frontiere a questi ucraini? Per forza, perché se aprissero le frontiere se ne scappano e gli ucraini in realtà devono rimanere lì, lavorare come schiavi e questo accordo di libera circolazione delle merci serve solamente per prendersi a sbaffo gratuitamente le risorse dell'Ucraina, ma le persone devono rimanere là. Non si è mai parlato di un accordo di libera circolazione delle persone, però purtroppo io sono andato anche a Vittorosa a controllare, nei media asserviti al potere, alla troica, che è lei che ha organizzato tutto questo, veniva fatto intendere come un accordo di libera circolazione delle persone che era in gioco un qualche cosa di questo tipo. In realtà è in gioco solamente la schiavizzazione del popolo ucraino, andare all'arrembaggio delle importanti e preziose e risorse che può fornire questo paese. Tant'è anche che il Fondo Monetario Internazionale, ovvero un elemento della troica, ha detto chiaramente noi daremo un aiuto finanziario, siamo pronti a finanziare e a creare un'iniezione monetaria sull'Ucraina, fermo restando l'integrità territoriale. Questo cosa vuol dire? È stato come andare a dire agli ucraini, andate ad ammazzare gli indipendentisti, come dire io ti do i soldi però guarda che se qualcuno si tira fuori io i soldi non te lo do più. Hanno per così dire incentivato una guerra e questo è quello che sta succedendo. A Maidan abbiamo trovato quindi un fronte di persone che anche giustamente combatteva verso un sistema che non gli piaceva, verso un Presidente che era comunque il Presidente legittimo, l'hanno votato loro però non piaceva, non è piaciuta a nessuno e è stato destituito con un golpe. Tecnicamente un golpista non è un governo legittimo, non sono stati i primi a tirarsi fuori da questa Ucraina la parte filorussa, si sono tirati fuori a Kier perché quando tu crei un golpe vuol dire che tu arrivi, conquisti, hai conquistato un territorio che poi questo territorio fosse stato Kier, fosse stato il centro direzionale, ancora meglio. Tuttavia i primi ad essersi tirati fuori a creare un'isola di illegalità che non rispettava il resto del paese sono stati i golpisti a Kier, indipendentemente dei loro intenti e anche tenendo conto del fatto che sono stati pilotati e sono stati sfruttati. Non è stata idea del loro sacco creare questo golpe a Kier. Ci sono dietro delle persone preparate in camice bianco, dei professoroni che stanno a Washington e queste cose qui vengono studiate a tavolino sono delle macchinazioni preparate in grande stile, fatte molto bene dal punto di vista tecnico. Per cui la gente viene coinvolta e in maniera consapevole non sa di essere stata sfruttata perché l'intento americano è quello di togliere dall'egemonia geopolitica dell'influenza russa questa determinata aria per farla rientrare nella propria, ma non per dargli un qualche cosa di libertà, ma un qualche cosa per schiavizzarli ed è un qualche cosa essenzialmente per andare all'arrembaggio e rapinarli delle risorse. È successo così ovunque sono arrivati gli americani, perché ovunque ci sono risorse loro arrivano e sfruttano. È successo in Libia recentemente, è successo in Afghanistan recentemente, è successo in Iraq e non sarà la prima volta che succede ovunque vi sono risorse. In questo caso l'obiettivo finale non è l'Ucraina, sarebbe la Russia perché la Russia, al pari di questi altri tre paesi che ho citato, è un altro paese che ha risorse energetiche per petrolio e gas. Quindi ci siamo trovati dinanzi ad un governo illegittimo, ovvero frutto di un golpe. Il golpe non è una rappresentativa del paese perché essenzialmente nella maggior parte dei casi è la parte più incazzata del paese che molto probabilmente è anche una minoranza, può essere un 5%, un 10%, un 20%. Comunque sia, anche nel fatto, qualora fosse una maggioranza, il golpe è sempre un qualche cosa di illegittimo. Se tu arrivi al potere che conquisti un governo e metti i tuoi dirappresentanti e anche visto il fatto l'ingerenza di paesi esterni che è una cosa, stando al diritto internazionale, l'ingerenza sui fatti nazionali sarebbe un qualche cosa di abberrante. Se tu conquisti e diventi un governo per così dire illegittimo, non puoi pretendere che le altre località periferiche ti riconoscano. Sei già tu che ti sei ritirato fuori. Gli altri cosa fanno? Con un referendum hanno semplicemente ribadito il tirarsi fuori da un qualche cosa che dal punto di vista giuridico internazionale non sta in piedi, non ha senso. Si sono tirati fuori e anche perché cosa hanno fatto questi qui dell'euro maidan? Una volta arrivati al governo hanno fatto delle scorribande ed essenzialmente una delle scorribande punitive verso chi non riconosceva la loro legittimità. È una legittimità che non è stata, non può essere riconosciuta a livello internazionale perché siamo davanti in colpe. Sono andati ad Odessa, una città che è sempre stata russa, fondata da Yekaterina II e hanno dato al logo delle persone. Non è stato un senso di civiltà. Se volevano dare un input, un qualche cosa che avesse spinto le altre parti regionali a dire no io non mi riconosco verso queste persone perché sono degli assassini comunque, sono dei rivoluzionari ma non sono dei rivoluzionari in un certo senso pacifichi, sono degli assassini che chi non la pensa come te viene fatto fuori. La gente che è salita sul carro degli assassini essenzialmente sono degli idealisti, gente come i fanatici di una squadra di calcio. A un fanatico del Real Madrid tu non gli puoi spiegare che il Real Madrid essenzialmente è un qualche cosa che non c'entra niente col Madrid perché prendono i giocatori da tutto il mondo e sono una roba da fanatici. È una cosa che a chi non gliene frega niente di calcio riesce a capire. È un qualche cosa che dice ma se io guardo la partita perché mi piace giocare ma a me non me ne frega niente di questo o di quell'altro. Ci sono anche invece i fanatici, i tifosi che sono dei fondamentalisti del sostenere una certa bandiera. Io tengo a quella squadra lì perché è la più bella e la più forte. Non me ne frega un cazzo se gli altri dicono di no, se perdiamo, se vinciamo. Noi siamo migliori, questo a priori. E questa qui è la gente che sta sostenendo il fronte dell'Euro Maedan. Sono gente che essenzialmente sono su un carro di ideali. Però hanno scelto un percorso, una strada che non è una strada legittima per poter andare a governare un paese. E la cosa più interessante è che non l'hanno scelto loro questo percorso. Sono stati pilotati per andare a sovvertire l'ordinamento istituzionale dell'Ucraina. Questo è quello che è successo. Ci sono altri elementi da tenere in considerazione. Essenzialmente questa gente qui, questi sostenitori qui di Kiev, da dove arrivano? Da Kiev e Ivano Frankovsk, da queste due località. Non sono neanche ucraini. Il loro nome è stato cambiato di queste popolazioni, è stato cambiato in ucraini. In realtà sono ruteni. Perché? Visto che loro sono ruteni, perché non vanno a rompere il piffero allora in Ungheria, in Austria o in Polonia, che sono quelle le loro terre. Voi siete ruteni, andate lì. Perché non andate a rompere il cavolo a quelle gente lì? Conquistatele, avete le vostre terre, andate e prendetele. Voi siete ruteni, le vostre terre sono lì. Sempre nell'architettare questo piano diabolico che va avanti vent'anni, ai ruteni è stato cambiato il nome, è stato dato il nome di ucraini per creare un falso storico, per legittimare questa gente qui, ad avere un predominio sull'Ucraina, che l'Ucraina è sempre stata una parte della Russia, ma sempre, andiamo avanti, prima dell'URSS, a chi apparteneva l'Ucraina? Era sotto la Russia. I russi stessi non sono arrivati in Russia perché sono nati lì, sono autototini dell'Ucraina. L'Ucraina era questa terra abitata dai russi e si è allargata, 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 fino ad arrivare fino in Giappone. La Russia stessa è un'estensione dell'Ucraina. Peccato che le persone che adesso chiamiamo ucraini, dal punto di vista tecnico, non sono ucraini, sono ruteni che se ne vadano da dove sono arrivati, dall'altra parte. C'è anche questo fatto storico qua. La Russia ufficialmente non ha mai ceduto all'Ucraina, caduta l'Unione Sovietica, le sue città quali Odessa, le città che ne so, dove adesso ci sono gli scontri, la zona lì del Donbass, non le ha mai cedute, ma non ha mai ceduto neanche Kiev se per questo al neocostituitosi stato ucraino. Qual è il documento in cui la Russia ha ceduto, ha dato una cessione territoriale nei confronti dell'Ucraina? Non esiste. Cadendo l'Unione Sovietica, dal punto di vista giuridico internazionale, la Russia avrebbe dovuto ritornare con i territori, con la conformazione territoriale esattamente uguale a quella che era prima della rivoluzione d'ottobre. Quindi queste città di fatto giuridicamente non esiste un passaggio per cui sono diventate Ucraina. L'Ucraina stessa è uno stato artificioso come è la padagna di Bossi. Non è mai esistita una padagna, un'entità con questo nome. È un'invenzione, un falso storico. Bossi grida la padagna e tutti credono che esista questa entità, sia mai esistita una padagna. In realtà la padagna non è mai esistita come Stato. La stessa cosa è uguale per l'Ucraina. Ok ragazzi, spero di essere stato molto preciso. Chiudo con una piccola riflessione. Tutto quello che è successo adesso in Ucraina ha fatto riflettere tantissimi italiani e tantissimi europei perché ci ha fatto capire che cosa siano i vertici dell'Unione Europea viviamo in una situazione in cui gli stati sono vittime, è stata tolta la sovranità nazionale dei singoli stati, vogliono fare la stessa cosa con l'Ucraina e abbiamo dei satrapi in cima al piramide. In primis questa struttura economica finanziaria che è la troica che dobbiamo cercare di abbattere. Questo è il nostro nemico. Abbiamo scoperto un nuovo nemico anche seguendo questi fatti sull'Ucraina perché sono arrivati veramente a compiere delle nefandezze inaudite. I soldati di Kiev sono solamente dei burattini mossi ad arte da in cima alla piramide. Ciao a tutti e ci sentiamo alla prossima. Ciao